Il primo ricordo che ho del giardino di Boboli risale ai primissimi anni della mia vita. D'estate ci trovavamo con le altre mamme all'interno del prato delle colonne d'inverno nella vasca dell'isola. Va specificato che i bambini venivano portati entrando da via Romana. Con la mia nonna andavamo a cerca di funghi. Mi ricordo di aver giocato dappertutto, non solamente sulla parte bassa dove ci sono i prati, ma sulla parte alta, di averlo scorrazzato tutto quanto. Non potevamo giocare a pallone, allora ci inventavamo di tutto per fare entrare il pallone con le rincorse dei giardinieri per tutti i parchi. Avvisa i visitatori di allontanarsi e quindi we wish to inform you that the garden is closing, eccetera, eccetera. E la cosa divertente è che i gatti che sono in Boboli hanno capito che quello è il momento in cui i turisti vanno via e si vede tutti i gatti che escono dai cespuglietti. Vale la pena effettivamente di fare una bella escursione in questi bei giardini. Grazie mille. 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 Grazie mille.